Il Casinò di Venezia è sempre molto vicino allo sport, Carlo Pagan non poteva che essere vicino anche a questo splendido torneo di golf, come sono stati questi Open d'Italia, signores? Per noi è stata una grossa opportunità anche per la natura internazionale dell'evento, il Casinò di Venezia sta cercando in modo importante una partnership con il mondo dello sport, dell'arte, della musica, dello spettacolo perché alla fine questa è la nostra strategia di comunicazione, non investiamo nelle campagne di comunicazione classiche ma cerchiamo invece di legarci a un mondo con dei valori positivi come può essere ad esempio quello del golf. Con l'obiettivo finale di aprire il Casinò un po' a tutte le diverse fasce di utenti che appunto possono accedere alle nostre sale. L'anno scorso è stato il primo anno di Pates, un anno per noi importante, il 2006, stiamo chiudendo proprio in questi giorni il bilancio con un risultato veramente notevole che dato dagli incassi abbiamo avuto l'incasso più alto di un Casinò di sempre in Italia ma anche il risultato economico si profila estremamente positivo. Quindi una parteci che è nata con il golf internazionale di questo evento del Lido sotto gli auspici più positivi e che contiamo di proseguire negli anni.